Il Consiglio regionale intanto approva il documento di economia e finanza via al piano da 58 milioni di euro post-covid che sarà destinato per imprese, famiglie e sanità. Ma andiamo a vedere il contributo. Con 12 voti a favore, un astenuto, due contrarie e sei assenti, passa il documento di economia e finanza regionale 2020-2022 nel quale, tra i vari provvedimenti previsti, è presente anche il piano di rilancio da 58 milioni di euro per favorire la ripresa dopo il flaggello del coronavirus. Favorevoli i consiglieri di maggioranza, l'astenuto e Michele Iorio, i contrari sono Fanelli e Facciolla mentre gli assenti sono tutti consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno partecipato al dibattito ma non hanno voluto essere presenti al voto. Il presidente Toma passa in denne così il primo ostacolo della tre giorni di fuoco sul bilancio in una giornata iniziata tra tante polemiche, prima fra tutte la scelta di nominare assessore il suo consigliere economico Maurizio Tiberio. Il dibattito, come era prevedibile, è stato per lo più indirizzato dal piano di rilancio dove moltissimi interventi hanno messo a fuoco le prospettive, una sorta di desiderata delle cose da fare tralasciando il come. Comunque il documento è passato, senza apparenti problemi per la maggioranza che ha ritrovato anche la partecipazione della consigliera Aida Romagnuolo inserita nell'ufficio di presidenza dopo essere stata per lungo tempo non affatto considerata adatta a ricoprire cariche di natura assessorile ed impegni istituzionali di vertice. Ora ci sono altri percorsi, quelli in aula che vedono da subito una certa blindatura della maggioranza ed un ritorno alla concordia dopo momenti di critica e conflitto, ma anche quelli di carattere giudiziario, con le istanze al tar molise proposte dai consiglieri supplenti tedeschi e scarabbeo e al tribunale di Campobasso proposta da Laura Vennitelli e da una ventina di persone di estrazioni politiche diverse.